Ciao ragazzi, buonasera e bentornati sul mio canale, mio dio, da una vita che non registro un video, un vlog, oggi è il primo di dicembre, quindi ovviamente cercherò di fare il vlog, ma questo quindi sarà il mio primo giorno, questo sarà un breve riassunto della mia giornata, che è stata molto impegnativa. Allora, innanzitutto vi mostro velocemente l'outfit del giorno, che in pratica è questa felpa, che è intitolata tre cool, e l'ho comprata a Primark quasi due anni fa, e un paio di jeans e le converse. Non è da tanto che sono tornata a casa dalla palestra, la mia giornata, come ho appena annunciato, è stata molto impegnativa, ho avuto il tirocinio, però l'abbiamo avuto in modo teoretico, quindi abbiamo avuto lezioni tutta la giornata, dalle nove e mezza fino alle cinque. Sono tornata a casa, mi sono cambiata, abbiamo anche dovuto indossare l'uniforme, quindi questo l'ho indosso soltanto da poco tempo. Poi mi sono prenotata, mi sono iscritta alla palestra finalmente, e sono andata, ho prenotato una classe, che è durata 45 minuti, dalle sette un quarto fino alle otto, e poi sono rimasta un pochino di più per fare altri esercizi da sola. Infatti in pratica ho cercato di fare una corsa, e pedalare, e ho preso delle foto, quindi potrò anche incorporarle a un certo punto nel vlog. E niente, cosa altro ho fatto? Sono andata allo supermercato a fare una piccola spesa, e sono tornata a casa, e quindi ho appena deciso di fare un piccolo mini vlog, per dirvi che sono ancora viva, non sono scappata dal tutto, però sono stata molto occupata con il tirocinio. Come potrete notare, l'ambiente è completamente diverso, perché non abito più nel posto dove abitavo prima, adesso abito nella casa, abito con sei persone, e questa è la mia camera. Quindi, se l'ambiente sembra diverso è per quello. I miei capelli sono anche diversi, ce li ho così da tipo da un mesette, più o meno. Era il mio compleanno il 4 di novembre, ne ho compiute 23, quindi adesso la Bea ha 23 anni, cresco, divento vecchia. E niente, ho cercato di registrare durante il mio compleanno, e ho già le clip, però per un motivo o l'altro non c'è più quel programma che ti permette di editare i video, di creare i mini vlog su YouTube. Quindi sto cercando un altro dispositivo che potrei utilizzare per editare queste mini clip. Se non le trovo, molto probabilmente l'unica cosa, l'unica opzione che avrò è ovviamente di caricare lo stesso video, però in pezzi, insomma, in parti diversi, perché non riuscirò, se non riesco a metterli tutti insieme. Quindi niente, è stato un periodo molto impegnativo con il tirocinio, l'università, la pallavolo, l'allenamento, giochi, abbiamo una partita questa domenica, e cos'altro. Sì, questo è quello che è successo molto velocemente la mia estate, non era male, come al solito sono tornata a casa, è stato bello vedere la mia famiglia, passare un pochino del tempo con loro, perché ovviamente durante il corso dell'anno non riesco a vederli tanto, per la natura del mio corso. e cos'altro, ho lavorato la maggior parte dell'estate, che era molto molto breve, era tipo meno di tre settimane, e ho ricominciato il secondo anno, quindi adesso sono al secondo anno, siamo già quasi, no metà del secondo anno, sono già passati quasi tre mesi dall'inizio del secondo anno, mi manca un annetto e mezzo, e se tutto va bene l'anno prossimo io dovrei qualificare come infimiera. Quindi è molto eccitante, però anche un pochino spaventoso, perché ovviamente quando il tempo che passa più responsabilità ti assumi. Abbiamo un report di 4.000 parole da scrivere, entro il 21 di dicembre, quindi domani quello che farò dopo l'allenamento di pallavolo è cercare di continuare a scrivere le parole. Ho già iniziato a scrivere le prime 1.200 parole, quindi come potete vedere ci sto mettendo un pochino del mio meglio. Quindi questo sarà l'anno prossimo.